la forza vai ragazzi che hai fatto? l'ho fatto tantasera non ho risolto bene non ce l'ho mai detto che c'è qua ti devo andare? ah, io che c'è hai detto quei panni si stanno ah, grazie Federico che è successo? Federico il doping non fa male solo psicologicamente ma anche fisicamente quindi imparate a rispettare voi stessi e anche i vostri compagni